Salve a tutti, sono Paolo De Martino e sono qui per parlarvi di un altro prodotto di casa 4Plus Nutrition, si chiama Intrapiù ed è stato studiato dai tecnici dell'azienda per garantire a quegli atleti che volevano una costante amminacidica più alta a livello ematico in quegli allenamenti che risultano più lunghi e più forti del solito, ma che allo stesso tempo desiderano un prodotto facilmente digeribile. Quindi il suo impiego negli atleti di bodybuilding, negli atleti di forza, ma perché no anche negli atleti di resistenza, che oggi cominciano ad apprezzare un imprinting amminacidico nelle loro bevande, spesso prima solo glucidiche. Come composto entra più. Su un serving size da 40 grammi ci offre 10 grammi di glutamina anticatabolico, volumizzatore cellulare per eccellenza, 5 grammi di citrullina, quindi maggiore volumizzazione, maggiore vasodilatazione, maggiore panto muscolare, grazie alla maggiore produzione di ossigeno e di ossido nitrico a livello ematico. 3 grammi di creatina, che ci danno un rapido ripristino di ATP, quindi energia sempre disponibile a portata di muscolo. Infine caseina idro C95, la caseina idrolizzata di casa 4 Plus Nutrition. È stata ricercata e sviluppata dai tecnici dell'azienda, ottenuta sottoponendo la stessa ad digestione enzimatica, che scinde i legami peptidici delle proteine in frammenti più facilmente assorbibili. È ricca di dietri peptidi, amminoacidi che vengono trasportati direttamente a livello cellulare e muscoli tramite il sangue, perché esenti da digestione a livello di stomaco. Un prodotto davvero tecnico ed innovativo, vi consiglio di provarlo. Un abbraccio da Pago De Martino, da 4 Plus Nutrition e da IncaPiù. Ciao!